Ciao, sono Luigi Manco, sono un ingegnero di construzione. Sono attenzionato il programma di Rextra Master per i ingegneri professionisti nella infrastruttura di construzione e nel settore di olio e del gas. Sono davvero felice di questa grande opportunità di essere intervistati dai manageri e dal risultato umano delle grandi società. Grazie a tutti!